Immaginate Doc Ock nel corpo di una liceale? Io no, ma la Marvel si! Vada è stato annunciato per il 30 giugno il manga Spider-Man Octopus Girl dove Doc Ock farà una roba molto ostile su Hero Spider-Man prendendo le sembianze di una liceale Doc Ock, Ock, Octopus, Polpo, Polpo liceale, Polpo liceale manga È davvero una buona idea?